Siamo una fabbrica di LED Grow Light a Shenzhen in Cina. Ecco le nostre luci di coltivazione a LED a spettro completo. Con 3 anni di garanzia. MOQ è flessibile. Alta qualità. Tempi di consegna rapidi. Gli ordini OEM e OEM sono accettabili. Siamo produttori professionali di luci per coltivazione a LED. Accoga favorevolmente la vostra richiesta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.